non lo parlo se il modo è troppo alto non è abbastanza di stare sul giallo mi conto che io imbatto sul giallo e torno indietro mi conto che io stazione completamente sul giallo quando parlo no va come si dice va sul giallo quando parti va sul giallo e poi torna indietro diciamo no rimane un po' più sul giallo allora devi abbassare un pochino il gain su in alto di quei due potenziometri abbassi un pochino il gain tra un po' eccolo allora ci siamo adesso vediamo un po' come sta avvenendo e poi vediamo se ha superato